Loredana Lecciso e Romina Pover. Perché hanno litigato? Punto di domanda in tutti questi anni Albano Carrisi ha cercato di fare spesso da pacere tra Romina Pover e Loredana Lecciso. Tuttavia, il 78enne Salentino non è mai riuscito nel suo intento, e a quanto pare le due donne si sarebbero affrontate in maniera piuttosto pesante. Proprio a Cellino San Marco, durante il primo lockdown, avvenuto nel 2020. Infatti, tutti e tre stavano passando la quarantena praticamente confinati nella tenuta pugliese, pur in case differenti, quindi avrebbe portato le due donne ad affrontarsi. Anzi, sembra addirittura avvenire quasi alle mani, secondo alcune voci che però non sono naturalmente le hanno confermate o smentite da parte dei diretti interessati. La decisione di Albano Carrisi Quello che invece ha confermato dallo stesso cantautore di Cellino San Marco è che l'imparzialità e la pazienza sono finite. Albano Carrisi ha deciso di dare la precedenza alla sua convivenza con Loredana Lecciso e si è impegnato a fare di tutto per evitare intrusioni nella sua storia d'amore. Un riferimento neanche troppo velato sulla rivale Romina Pover, anche se per il momento tutto sembra tranquillo. Infatti la 49enne Salentina e il maestro Carrisi hanno festeggiato da poco i loro 21 anni insieme, coronati dalla presenza dei figli Jasmine e Albano Junior, detto Bido. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.